Adesso non esageriamo. Io riesco con difficoltà a seguire le faccende dell'amicizia, sono le faccende tra quelle decisive della nostra vita. Nella mia vita le traiettorie delle mie amicizie sono state la cosa forse la più importante. Restare fedele o tradire un'amicizia era un'impresa che ne valeva la pena. L'amico mio non fraterno, più che fraterno eccetera, noi venivamo da una generazione che era stata molto politicizzata verso la sinistra, molto, moltissimo, e io man mano a un certo punto mi sono allontanato da questa latitudine, mentre lui invece ci restava. La nostra amicizia non è stata toccata neppure da un mignolo da questo aspetto, neppure da un mignolo. Sentire che adesso ci si litiga perché una volta quello ha detto una parola in più o in meno. Beatrice vale molto di più che una parola in più o in meno. Grazie, sentiamo anche tantissimo.